E allora ripartiamo con questi momenti di intrattenimento qui da Piazza San Donato, la piazza centrale dell'artigianato di Pinerolo per quest'anno. Vedete che c'è qualcosa di un po' di diverso, non ci sarà un momento di chiacchierate, invece un momento di musica a cura del Civico Istituto Musicale Corelli, scuola di musica qui a Pinerolo. Io direi che lascio tutto lo spazio sia fisico che sonoro a Giovanni e a Paola. Buon ascolto. 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 Non si lascia 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 Un'altra cavatina di Giuliani Non si lascia 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 Ottimo, per finire canzonetta spagnola di Gioacchino Rossini, un nome familiare Gioacchino Rossini, un nome di 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 Gioacchino Rossini, un nome Las prendas sin librar, las prendas sin librar. Las prendas sin librar. Las prendas sin librar. Las prendas sin librar. La Baptist. solo pote sonar ai 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 e ai 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 e ai 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 Mi al mare conosce, ahi, la fuerza della bella, ahi, mas mi perversa estrella, ahi, mantenga i al cantar, ahi, ahi. Ahi, quanto non questo è ora, sempre, sempre dichosa, quali se le mi amie, las vienas celebran, las vienas celebran, las vienas celebran, las vienas celebran. Ahi, 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 ahi. Ancora un applauso, ancora un applauso, Giovanni, Paola, il Civico Istituto Musicale Corelli a Pinerolo. Io in realtà volevo sanarvi giusto per una domanda, perché insomma siamo a settembre, inizieranno i corsi immagino a Corelli, c'è qualche giornata, c'è qualcosa da... Abbiamo la settimana a Porta Aperte dal 23 al 28 settembre, dove si possono provare tutti gli strumenti su prenotazione e poi dal 7 ottobre iniziamo i corsi normali. Quindi in sostanza vi si chiama oppure si arriva lì, ci si prenota? Ci si prenota presso la segreteria, si può fare una lezione di prova di violino, di canto, di chitarra, di pianoforte, insomma tutto. Tutto quanto, anche questo eventualmente. Anche questo, sì, esatto. Ancora un applauso, grazie mille, grazie mille. Grazie per questo momento di pace, posso dirlo? Molto, sì, sì, sì. Nella frenesia di mercato artigianato, una parentesi un po' più tranquilla, adesso ci prendiamo un altro momento di pausa musicale di un altro genere e poi ci risentiamo tra un attimo.